Quando devo imparare un nuovo brano cerco sempre di trovare la atmosfera giusta e voglio mostrare esattamente questo, guarda come questo voicing cambia completamente la atmosfera e voglio mostrare che cosa sto suonando, guarda In questo voicing qua ho preparato l'arrivo del re con un la sus però poi l'ho trasformato in questo modo qua aggiungendo la nona bemole, la tredicesima, che fanno completamente la differenza e ovviamente il modo in cui sto suonando è ciò che conta ed è per questo che in questo quarto episodio della serie In Nuova Armonia una serie dedicata a mostrati come puoi personalizzare i tuoi brani ti sto mostrando già esattamente l'applicazione diretta perché su ogni accordo ora del quinto grado potrai iniziare a implementare e a capire come queste sonorità possono trasformare i tuoi brani e per questo oggi stasera ho creato una lezione specifica dal vivo per mostrarti non solo su Pino Daniele ma tantissimi altri brani come puoi implementare questi voicing ma anche e soprattutto trovare un sistema metodico che ti aiuterà a memorizzarli per sempre se vuoi partecipare con me, commenta qua sotto 1-9-8 e ci vediamo stasera per divertirci insieme Grazie 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 Grazie